Il supporto PNI T941 è adatto per il montaggio fisso delle antenne di tipo PL sul bagagliaio della auto. I 5 metri di cavo quasi ali incluso sono sufficienti per la connessione dell'antenna alla ricetrasmittente CB. Il cavo è di ottima qualità e garantisce prestazioni ottime per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione.